Il lavoro dell'Istat sul censimento sull'impresa è molto importante perché ci dà una fotografia completa dei guai che il nostro Paese ha vissuto ai tempi della crisi della pandemia e di come il sistema produttivo si è ripreso. La fotografia è sostanzialmente di un rimbalzo che ha mantenuto i punti di forza ma soprattutto i punti di debolezza del nostro sistema, cioè siamo ritornati a produrre più o meno le stesse cose che si facevano prima con una difficile evoluzione sui fronti più importanti, cioè si è fatto poco sforzo sull'innovazione tecnologica al tempo del digitale, si è fatto poco sforzo di sostituzione delle vecchie energie fossili con energie rinnovabili e con una maggiore efficienza e sostenibilità ambientale, si è fatto ancora poco sforzo per aumentare la produttività, la qualità del lavoro, la qualità della capacità produttiva in nuovi settori ad alta tecnologia e a mercati crescenti. Quindi si è giocato in difesa, ci siamo salvati in corner rispetto a una crisi drammatica, però la partita adesso dovrà essere giocata con una prospettiva diversa.